Salve a tutti. In diverse occasioni siamo intervenuti sul tema del vincolo quinquennale introdotto per i docenti neoimmessi ruolo, evidenziandone i profili critici e i disagi che deriveranno per i neoassunti a causa dell'impossibilità di partecipare alle operazioni di mobilità, di assegnazione provvisoria o di assumere incarichi a tempo determinato in altri profili per ben 5 anni. La norma tuttavia prevede alcune deroghe, quindi la possibilità di svincolarsi dal blocco quinquennale. Il primo caso riguarda le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumerarietà, in presenza delle quali il docente in esubero dichiarato soprannumerario potrà partecipare alla mobilità. L'altro caso riguarda le ipotesi di cui all'articolo 33 della legge 104-92 che dovessero essere sorte successivamente alla partecipazione alla procedura concorsuale dalla quale si è stati reclutati o all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dalla quale si è stati chiamati a tempo indeterminato. Per quest'ultimo caso in particolare, a ben vedere, viene introdotta una sorta di differenziazione tra le situazioni di disabilità sulla base di un mero criterio temporale. Questo meccanismo in realtà pone seri dubbi di legittimità, in quanto pone su piani differenti le situazioni di disabilità soltanto in base al momento in cui esse sono sorte e quindi mette in differente condizione chi assiste a un soggetto disabile o a esso stesso disabile, ma la disabilità è stata certificata in un momento piuttosto che in un altro momento. Sicuramente in sede giudiziaria queste situazioni di criticità verranno evidenziate ed uno dei modi per evitare di passare necessariamente attraverso la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere quella di invocare la violazione da parte della norma interna dei principi comunitari di non discriminazione di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro. Vedremo come si evolverà alla vicenda. Vi invito a seguire il sito della tecnica della scuola per essere costantemente informati, il canale YouTube e i canali social della tecnica. Arrivederci a tutti!